Sei interessato ad un corso di laurea triennale in ambito scientifico? La Scuola di Scienze dell'Università di Padova offre 17 corsi di laurea triennale, erogati da sei dipartimenti, Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, Matematica, Scienze Chimiche e Scienze Statistiche. Questi i corsi, Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie, Scienze Naturali e Ambientali, Biology of Human and Environment Health, Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali, Scienze Tecnologie per l'Ambiente, Fisica, Astronomia, Ottica e Optometria, Matematica e Informatica, Scienze Geologiche, Statistica per l'Economia e l'Impresa, Statistica per le Tecnologie e le Scienze. Ti ricordiamo che per iscriversi a tutti questi corsi è obbligatorio lo svolgimento del test di ingresso, denominato TOLC, di cui trovi informazioni nel video indicato in questa pagina e anche nel sito del CISIA. Altra cosa importante da sapere è che ci sono corsi ad accesso programmato, ovvero con un numero limitato di iscrizioni, e corsi ad accesso libero, ovvero senza limite di iscrizione. Per accedere a qualsiasi corso di laurea della Scuola di Scienze è obbligatorio sostenere il test di ammissione, denominato TOLC. Per i corsi di laurea ad accesso libero il test non ha carattere selettivo ma serve come preparazione. Per i corsi di laurea a numero programmato l'esito del test permette di definire la graduatoria di ammissione ai corsi. Se desideri avere maggiori informazioni su un corso di laurea puoi cliccare nel sito dell'Università di Padova la voce corsi e scrivere il nome del corso di tuo interesse scegliendo l'ambito relativo. Nella pagina del corso che vedrai ti vengono indicate tutte le informazioni utili e il sito di riferimento. Altre informazioni sul corso di tuo interesse le puoi trovare nella pagina del sito della Scuola di Scienze, didattica, orientamento. Per avere informazioni sulle iscrizioni puoi visitare il sito della Scuola di Scienze, didattica, come iscriversi. Ti invitiamo a leggere con attenzione il paragrafo 3 avvisi di ammissione. Un saluto dalla Scuola di Scienze dell'Università di Padova.